Nonostante i provvedimenti effettuati negli ultimi anni, l'amianto continua ad essere una forte minaccia. Ad attendere ancora interventi di bonifica ci sono migliaia di scuole e infrastrutture. La pericolosità dell'amianto è danni al centro di molte discussioni ministeriali, portando all'attivazione di misure di bonifica di questo materiale altamente cancerogeno. Da 30 anni è stata vietata la produzione e l'installazione dell'amianto e dell'Eternit. Quest'ultimo si tratta di un mix d'amianto e cemento che facilmente rimane disperso nell'aria. Nonostante siano stati messi a disposizione da parte del Ministero dell'Ambiente diversi fondi per la bonifica, quello dell'amianto è un rischio che persiste in migliaia di strutture in Italia, tra scuole, ospedali ed edifici pubblici. Stando a dei recenti dati, sono più di 2.400 le scuole che espongono 350.000 studenti e 50.000 membri del personale scolastico a rischio di contrarre il mesotelioma, un dataset inspiegabilmente dimenticato nel passaggio di informazioni tra il sistema nazionale e i nodi regionali dell'anagrafe dell'edilizia scolastica. A 30 anni dalla messa al bando della fibra cancerogena, secondo il Ministero della Salute, uno dei più pericolosi veleni interni, non è ancora stata eliminata definitivamente dagli edifici scolastici frequentati da bambini, ragazzi, docenti e molti altri. L'esposizione alle polveri e fibre di amianto comportano quindi un rischio enorme. I primi a pagarne le drammatiche conseguenze sono gli insegnanti, i collaboratori scolastici, ma il rischio è per tutti. Il tempo di latenza dell'esposizione è compreso tra i 20 e i 40 anni. Chi, quindi, a sua insaputa, respira una fibra di amianto oggi potrebbe ammalarsi in età adulta. Tra il 1993 e il 2018 sono decedute 121 persone tra docenti e membri del personale scolastico, un numero troppo alto che non può più aumentare. Buonasera e bentornati con il VG21. La notizia che affronteremo oggi è un'emergenza che è ancora troppo sottovalutata. Parlo dell'amianto, soprattutto la presenza nei luoghi pubblici e privati ed è tornato anche nelle scuole. A questo proposito do il mio benvenuto a Ezio Buonanni, avvocato e presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto. Buonasera Ezio. Buonasera e grazie dell'interessamento per questo grave problema dell'amianto nelle scuole, negli istituti pubblici e anche privati e nei luoghi di lavoro. Come abbiamo sottolineato nel servizio, l'emergenza dell'amianto soprattutto nelle scuole è tornato ad essere una parte centrale della società, dei problemi della società. Cosa sta accadendo? In buona sostanza, dopo la messa al bando in Italia con la legge 257 del 1992, tardiva già di per sé perché la capacità dell'amianto di provocare danno alla salute è conosciuta fin dall'inizio del secolo scorso e l'asbestosi è stata tabellata con la legge 455 del 43, quindi indennizzata come malattia professionale. Abbiamo avuto un lungo buco nero fino al 1992. Messo al bando l'amianto in realtà si è andati a rilento con le bonifiche, per cui tutte le scuole, tutti i luoghi di vita e di lavoro realizzati prima del 1992 avevano e danno un'enorme quantità di amianto, quindi anche le scuole. Era un rischio non conosciuto in Italia finché noi come ONA nel 2012 abbiamo censito circa 2.400 scuole che sono rimaste allo stesso numero perché da una parte alcune sono state bonificate, altre ci sono state segnalate in aggiunta. Quindi l'ONA è stata l'unica entità di terzo settore e quindi di associativa che ha sollecitato le pubbliche istituzioni a prendere atto di questo rischio e a cercare di bonificare. Il finanziamento a cui si faceva riferimento nel servizio è quello del Ministro dell'Ambiente Costa che aveva istituito la commissione amianto di cui facevo parte e al quale io sollecitai questo problema e nel 2020 furono stanziati 395 milioni di euro per la progettazione della bonifica, ma siamo ancora a rilento e ultimamente il Sindaco di Roma finalmente ha preso atto della necessità di bonificare 111 scuole, ma che sono solo una parte del maggior numero di scuole con amianto ancora presenti nella capitale, come per il resto per l'intera regione e il resto d'Italia. Per cui è un'emergenza sul tappeto, ma che riguarda anche gli ospedali. Ricordo quello di Rieti, dove sono morte due persone per mesotelioma, come le navi della Marina Militare, i treni, eccetera. Quindi abbiamo, si può dire, una Repubblica dell'Amianto e quindi dobbiamo procedere più presto con la bonifica e la bonifica ha un costo inferiore rispetto alla non bonifica, perché non bonificare significa che ci saranno molti più malati, molti più deceduti, quindi un costo umano inaccettabile, ma al tempo spesso spese sanitarie e spese sociali, i costi sono più elevati rispetto alla bonifica, anche solo quelli economici. Ricordiamo ai nostri telespettatori, quali sono i rischi se si viene a contatto con l'Amianto? L'Amianto, il rischio è in proporzione alla dose che uno inala. Per esempio, tutti coloro che hanno lavorato nell'Eternity, o che hanno maneggiato Amianto, sono morti quasi al 100% per malattie d'Amianto. Quindi mesotelioma e asbestosi, tumori del polmone, della laringe, della faringe, delle ovaie, del colon retto e del fegato. Anche il colangio carcinoma del fegato, per esempio. Quindi l'Amianto è il big killer del terzo millennio, tant'è vero che il 78% dei tumori di origine professionale sono causati da questo unico big killer che è l'Amianto e si sconfiggono le malattie d'Amianto solo evitando l'esposizione, perché purtroppo questo killer quando colpisce determina quasi certamente la morte e nella migliore delle ipotesi malattie gravemente invalidanti. E poi l'evento morte è così traumatico che sconvolge anche le famiglie, per le modalità in cui si determina. Esattamente, ma non solo, anche come parlavamo e abbiamo sentito nel servizio, uno non se ne accorge all'oggi e a domani. Possono essere sufficienti anche pochissime fibre, perché ci può essere una condizione enzimatica o una predisposizione naturale per la quale anche poche fibre possono determinare la morte. Tant'è vero che i professori che notoriamente non hanno mai maneggiato o lavorato l'Amianto hanno un'alta incidenza di case di mesotelioma. Quindi vuol dire che questo Amianto nelle scuole ha un grande impatto. E poi c'è quello sui bambini che nessuno ha mai censito e che avendo loro un sistema immunitario meno sviluppato, naturalmente sono a rischio. E ovviamente come ricordavamo anche nel servizio, prima anche di prendere questa malattia, di accorgersene di avere una malattia... Possono passare anche fino a 50 anni. Esatto, un esempio recente, lei ha appena vinto una causa. Esattamente, quindi diciamo che il range è dai 10 ai 60 anni, la media va dai 38 ai 48 e quindi però è molto variabile, per cui chi è predisposto naturalmente sono morte e muoiono anche per esempio le mogli che hanno lavato le tute ai mariti, i figli addirittura casi di marito e moglie e figli, quindi ci sono intere famiglie esterminate dall'Amianto e Casale Monferrato, dove praticamente sono già deceduti da tempo tutti quelli che avevano lavorato nell'Eternit, è il triste esempio, perché continuano a morire su 35 mila abitanti solo di mesotelioma, che è la punta dell'iceberg, 35-40 persone l'anno, quindi uno su mille che è un'incidenza altissima, tenendo conto che la media nazionale è di uno ogni 50 mila, naturalmente è la punta dell'iceberg, perché poi ci sono tutti gli altri tumori, come per esempio il tumore del polmone e laddove c'è per esempio un fumatore, tra fumo e Amianto il rischio si moltiplica fino a 60, quindi diventa distruttivo. Esatto, proprio su questo, ho letto anche che negli ultimi anni i decessi purtroppo sono aumentati, anche con la presenza del Covid. Esatto, perché colpiscono lo stesso organo berzaglio, e quindi i polmoni, le vie respiratorie in generale, il sistema cardiaco e cardiovascolare, quindi chi è già colpito dall'Amianto con molta più facilità è più fragile all'attacco del Covid e a maggior ragione tutti coloro che avevano anche una patologia tumorale delle vie respiratorie sono stati falcidiati dal Covid, già dal 2000, 2020. So però che su questo l'Unione Europea sta iniziando a prendere una posizione un pochino più decisa almeno, sembra. Certamente, allora l'Unione Europea non a caso ha come punto di riferimento l'aspetto economico e quindi su questo punto a mio modo di vedere si è mossa timidamente il concetto di limite di soia delle 100 fibre litro è un concetto sbagliato perché l'unica fibra che non fa male è quella che non si respira e anche poche fibre possono essere mortali e allora il concetto del limite di soia che è un compromesso tra le esigenze dell'industria e le esigenze della salute è sbagliato anche perché, come dicevo, queste malattie fortemente invalidanti e immortali hanno dei costi anche sanitari e sociali, di prestazioni sanitarie sociali, pensionistiche eccetera e giudiziarie oltre al costo inaccettabile della vita umana quindi sotto questo punto di vista occorre privilegiare oltre alla transizione ecologica anche la transizione etica e la sostenibilità sociale e anche dello stesso sistema sanitario che andrebbe rafforzato e questa sarebbe la prevenzione secondaria, quindi primaria la bonifica quindi evitare l'esposizione per evitare il danno, secondaria diagnosi precoce e migliore terapia, quindi potenziare il sistema sanitario nazionale e la ricerca scientifica sulla quale siamo deficitari, anche sulla ricerca scientifica dei danni da mianto e anche la prevenzione terziaria di dare giustizia, ma non attraverso i tribunali, le vittime dovrebbero essere risarcite attraverso un fondo, in modo tale da evitare il contenzioso, questo è il punto chiave, quindi ritornando all'Unione Europea si è mossa timidamente, quindi avrebbe dovuto stanziare a livello europeo dei fondi per la bonifica, questo avrebbe determinato un grande cantiere per la ristrutturazione di tutte le ristrutturazioni, un cantiere, anche dal punto di vista economico noi abbiamo fatto i conti che sarebbe stato un volano per l'economia, quindi la ristrutturazione o la nuova edificazione di infrastrutture libere dall'amianto determinerebbe una maggiore attività anche dell'indotto, più posti di lavoro, quindi più anche introiti per lo Stato come IVA eccetera, quindi si sarebbe meno spese sanitarie, meno spese nei medicinali, meno spese per le pensioni e tutto il resto abbiamo fatti conti che ci sarebbe stato anche un utile di natura economica, però probabilmente qui c'è il Bancomat delle farmaceutiche, vedi Taranto e Tesimilia direbbero i latini e vedi interessi dei grandi gruppi anche a una condizione ricattatoria del lavoro, cioè il falso dilemma salute il lavoro e quindi a Taranto come nei poli petrolchimici, come in tutti i luoghi di lavoro purtroppo molte volte l'operaio, il lavoratore in generale, dico anche il professore esposto all'amianto, è stato lasciato solo e abbandonato e le norme di tutela della salute quindi sono norme che rimangono solo sulla carta, non vengono applicate e quindi nei luoghi di lavoro e nei luoghi di vita la persona rimane da sola ed è vittima, vittima anche inconsapevole, quindi abbiamo la necessità di applicare le norme di sicurezza sul lavoro, abbiamo necessità di una nuova politica che deve privilegiare la salute e l'ambiente e questo è il punto chiave che noi abbiamo sempre sostenuto e che i partiti tutti non sono stati in grado di realizzare, spesso giostrando solo a fini elettoralistici il tema ponendosi nella contrapposizione datori di lavoro, padrone lavoratore nell'ottica egheliana o marxista di scontro tra le classi, invece questo è sbagliato perché l'Ona getta un ponte, non rompe, non frattura, non crea lo scontro, non vuole creare lo scontro ma l'incontro, tutti insieme contro l'amianto per bonificare e quindi evitare i danni alla salute, nell'interesse anche delle future generazioni, questo è il nostro senso e purtroppo la politica su questo è deficitaria. Esatto perché diciamo anche l'Unione Europea come si vedeva prima timidamente riuscì a dare delle linee guida però in sostanza ogni paese deve stilare un progetto, deve decidere come intervenire per la propria nazione, adesso è salito un nuovo governo, che modalità deve adottare questo governo adesso per poter far fronte a questa emergenza che come ricordiamo non è solamente sanitaria ma è anche ambientale del nostro paese. A mio modo di vedere il governo si deve affidare a dei tecnici esperti della materia nei vari settori interdisciplinari, da quelli tecnici a quelli medici a quelli giuridici e deve intanto dovrebbe tirare fuori dal cassetto il progetto di legge di riordino della normativa che la commissione Amianto di cui facevo parte ha stilato il testo gratuitamente per l'istituzione, quindi dovrebbe riordinare queste norme che sono un quacervo di disposizioni che si sono affastellate negli ultimi 30 anni e poi dovrebbe insistere sulla bonifica, quindi creare un credito di imposta per permettere la bonifica sia per il privato che per il pubblico e quindi anche l'imprenditore potrebbe defalcare tutto l'importo che spende per la bonifica, lo Stato non rimetterebbe niente perché una parte lì introita comunque con l'IVA, tasse eccetera, dall'altra più lavoro quindi meno reddito di cittadinanza e più lavoratori impiegati e quindi che versano anche i contributi, le tasse, quindi diciamo che a conti fatti la bonifica anche col credito di imposta sarebbe a costo zero o addirittura con un utile nel lungo periodo, quello che mi diceva prima appunto, esattamente quindi a modernare anche il sistema infrastrutturale, anche industriale, quindi anche l'industria avrebbe dei fondi attraverso il credito di imposta, poter anche cedere, quindi potrebbe fare anche la cessione del credito avendo speso i soldi, quindi questo è un sistema che noi abbiamo elaborato attraverso cui si realizzerebbe la bonifica, con la bonifica anche un enorme cantiere perché si creerebbero posti di lavoro e quindi questo faciliterebbe anche l'indotto dei fornitori dei materiali per le bonifiche, quindi abbiamo studiato tutto anche dal punto di vista economico ed è a un saldo positivo, si pensi che solo l'ILVA di Taranto ha creato un danno solo di spesa sanitarie di 4 miliardi di euro, quindi diciamo che bonificare l'ILVA sarebbe costato molto meno e pensiamo ai danni, pensiamo ai tanti bambini deceduti per le ocemia o per altre malattie, pensiamo a decine di migliaia di persone che nel tempo sono morte e che purtroppo moriranno a Taranto, quindi questa è una politica che non può essere accettata, quello di dire Taranto è inquinata per un certo livello, se supera la soglia io per legge alzo la soglia e questo è sbagliato, bisogna disinquinare e restituire anche questi territori alla bellezza, alla furibilità e quindi anche al turismo che è la nostra maggiore industria. Esatto, ci spiega il vostro ruolo, il vostro intendo come l'Associazione Osservatorio Nazionale Amianto? Questa associazione ha raccolto il grido di dolore delle vittime inizialmente e poi successivamente ha sviluppato la sua azione coinvolgendo cittadini, lavoratori, insegnanti in tutta Italia e la nostra finalità è quella di sollecitare le istituzioni per la bonifica e la messa in sicurezza, evitare ogni forma di esposizione ad amianto, assistere anche sanitariamente i pazienti e tutelarli anche legalmente, avere quindi il risarcimento del danno, però ripeto il risarcimento del danno non restituisce la vita e la salute, noi dobbiamo andare oltre questa ottica risarcitoria e quest'ottica giudiziaria, la nostra ottica deve essere quella di evitare il rischio, quindi di evitare l'inquinamento e di evitare quindi le esposizioni, perché dall'inquinamento c'è anche un danno di carattere collettivo, quindi anche un mutamento dell'ecosistema da cui deriva per esempio in buona parte anche il Covid-19, il cambiamento climatico, tifoni e altre cose, quindi questa lesione, il consumo dell'ambiente, il consumo dei nostri beni primari acqua, aria e suolo sta determinando dei grossi danni alla salute e l'amianto è l'esempio, l'amianto è un esempio, è una metafora di quello che è l'effetto dell'inquinamento sulla vita e sull'ambiente, vita attuale e futura e anche economica, perché laddove c'è l'inquinamento non ci può essere ricchezza e quindi c'è un danno anche economico, sociale e materiale, oltre che ambientale e anche di relazioni umane, perché si pensi a un territorio completamente inquinato, pensiamo a Taranto o ad altri territori, anche i bambini che devono rientrare in casa per non essere attinti direttamente dalle folate di metalli pesanti, di amianto e di altre cose che provengono dall'ilba, quindi ha uno sconvolgimento anche di natura sociale, di relazioni e di tutto. Quindi come poi anche ricordava, sicuramente una delle prime soluzioni deve essere quella della bonifica e prevenire, esatto, perché se noi togliamo il cancerogeno, il veleno e non lo respiriamo, questo veleno, non lo ingeriamo, anche dalle tubature dell'acqua che costruite prima del 92 sono con amianto e quando c'è il terremoto, questo amianto, anche i micro terremoti va nell'acqua, quindi è un problema, quindi se noi togliamo tutti questi veleni e sicuramente vi diamo danni alla salute. Io la ringrazio, la ringrazio di averci esposto questa emergenza e questa problematica. Grazie a voi e del vostro interessamento. Ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito fino a qui e vi lascio la programmazione di Canale 21. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti